Oh mio dio! Oh mio dio! Ecco le creature che mi hanno rapito! Raga! Ho trovato la via di fuga! La mia missione è stata completata! Ehi tu! Supportami come un creatore! Ma dove mi trovo? Dove mi trovo? Cos'è questa base? Ma queste luci, questi macchinari sono futuristici! Che cos'è? Mi ricordo solo che ero in missione spaziale e che improvvisamente la mia navicella è stata rapita o attaccata dagli alieni! Ma che è successo? Computer, in che anno siamo? Due minacchino di carta! Ma cavolo! Sono passati 99 anni! Ma allora sono stato rapito dagli alieni e congelato in queste capsule strane per poter andare oltre! Era il 2019 quando partì per la missione spaziale! Che è successo? Ci sono altre persone insieme a me? No, a quanto pare no! Non c'è nessun altro, sono solo io! Non so se c'è qualcun altro in questa base segreta! Vediamo cosa c'è scritto qua! Mi trovi su Instagram hashtag purafibretaliana.pfi Mi piacerebbe che tu mi seguissi e ricordati di supportarmi come un creatore nello shop col codice OCTPFI Ah, va bene, ok! Queste scritte non hanno molto senso, a quanto pare! Sarà meglio aprire con attenzione questa porta! Oh, oh! Che è successo? Che è successo? Devo aver attivato qualche tipo di allarme! Che cos'è questa cosa? Mi stanno chiamando, ma ti sembra il momento? Jessica, chiamami un'altra volta! Non so cosa ho appena fatto! Hmm, devono essere prigioni per altri prigionieri che sono stati intrappolati! Chissà se c'è qualche via di fuga da queste parti! Deve esserci! Devo scappare di qui! Devo tornare a casa! Oh mio Dio! Ma lì c'è una grata di aereazione! C'è qualche modo per salirci? No, a quanto pare no! Sarà meglio riguardare nelle altre, magari anche nelle altre c'è qualcosa del genere! Hmm, in qualche modo devo arrivare da quell'altra parte! Penso che lì sia l'uscita! Ma come arrivarci? Questo è il dilemma! Oh! Signori! Abbiamo trovato una via! Ma dove ci porterà questa via? Siamo sicuramente nei tunnel di aereazione! Spero che nessuno mi veda! Spero che nessuno mi veda! Credo di essermi perso, decisamente! Sarà per di qua che bisogna andare? Non ci sono vie di uscite, purtroppo! Questa zona di aereazione finisce qua, diamine! Ah! Magari per di qua? Sembra che ci sia una via di uscita! Ragazzi, il tutto è più difficile del previsto! Ragazzi! Ragazzi! Penso di aver trovato una via di uscita! Penso di aver trovato una via di uscita! Spero di non essere stato scoperto da nessuno! La caduta da questo posto sarebbe fatale! Non so se si possa in qualche modo scendere per queste tubature! Ma forse non è questa la via corretta! Non vorrei rischiare di morire! Raga! In questi tunnel ho trovato un'arma segreta! È un fighissimo rampino! È un fighissimo rampino! Ma dove lo... dove mai lo potrò utilizzare questo rampino? Guardate, raga! Raga! Sono riuscito a salvarmi! Attenzione! Bisogna fare molta molta attenzione! Molta molta attenzione! Che cos'è questo posto? È sempre più strano! Deve essere sicuramente una zona di ricerca degli alieni! Gli alieni sicuramente dovevano fare strani esprimenti sugli umani! Magari sono una cavia sopravvissuta! Ma dove sono finiti tutti? Dove devo andare? Sicuramente non da questa parte! Ma neanche da questa parte forse! Non lo so! Vediamo un po' se da queste parti... Dietro queste casse... Sembra che queste casse non lasciano passare nessuno! No! Ci deve essere qualche altra via d'uscita magari! Forse per di qua sopra... Vedo una porta lì! Vedo una girosfera! Questa deve essere qualche forma di navicella aliena! In qualche modo devo arrivare lì sopra! Ok ragazzi! Ho un piano! Adesso entrerò dentro quella girosfera! No! Sicuramente deve esserci qualcos'altro da fare! Ma che cosa è la vera domanda? Magari da queste parti c'è qualche strumento segreto ma... Purtroppo non vedo nulla! Ok! 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 Sempre meglio evitare le videocamere! Non vorrei essere scoperto dagli alieni! Lì vedo una porta! Questi alieni sono molto particolari! Io ce la farò perché io sono un Giorgino astronauta! E ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta a raccogliere questa... Questa piattaforma strana! Non so dove devo piazzarla! Probabilmente lì in basso! Signori questa tecnologia aliena è stranissima! Non è dei miei tempi! Non esistevano certe cose ai miei tempi! Siamo in una nuova stanza! Che cos'è questa stanza? Cosa sono questi macchinari? E soprattutto questi led hanno qualcosa che vedere con la porta che devo aprire? Dove sarà la via di fuga? Sarà meglio non farci vedere dagli alieni! Accidenti! Accidenti! Di qua non si può passare in nessun modo! Pazienza! Pazienza! Quest'arma... In qualche modo può aiutarmi! Una jump pad! Una jump pad! Questa è una piattaforma di lancio dei missili! Venivo usata ai miei tempi per volare via lontano! Venivo usata per spostarsi da un pianeta all'altro! Oh mio Dio! No! Ci rimangono queste tre stanze! Forse è per di qua che bisogna andare? Sì! Molto probabilmente è per di qua che bisogna andare! Molto bene! Penso di aver trovato una via di uscita! Sì! Ok spero che sia la via d'uscita corretta! Siamo passati ben oltre! Cosa sono questi strani simboli alieni? Cosa significano? Cosa ci sarà dietro questa porta? Oh no! Siamo nello spazio! Siamo nello spazio qua! Devo stare attento a non cadere nelle profondità dello spazio! Ho capito! Ho capito! Ho capito questo segnale alieno! Riguardiamolo meglio! Dai! Grazie al mio super tecnologico piccone! Non mi sono mai avvicinato tanto! Non mi sono mai avvicinato tanto dopo ore e ore e ore! E non sto scherzando! Signori! Un piccolo passo per l'uomo! Un grande passo per l'umanità! Sì! Ragazzi non avete idea! No raga! Non esiste che io muoia adesso! Non esiste! Ma sento dei razzi! Cosa sta succedendo? Sì signori! Sì! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Che tecnologia è mai questa? Che tecnologia è mai questa? Ragazzi! Tecnologia aliena! Ci sono troppi rumori! Cosa sono tutti questi laboratori? Cosa sono tutte queste trappole? Chissà dove devo andare! Sicuramente da qualche parte così! L'unica porta che vedo è quella! Ma come arrivarci? A meno che non vi sia qualche passaggio segreto nascosto! Raga! Numerose vie di uscita! Ma nessuna è raggiungibile! Invece era più semplice del previsto! Sarà per di qua la mia via di fuga? Questa! Questa zona è proprio... È proprio terrificante! Ma come? È bloccato? Ma scusa! E io dove vado? E io dove vado? No! Un attimo! Un attimo! Un attimo! Ehi! C'è qual quadra che non cosa! Da queste parti non ci sono vie di fuga! Ma vediamo se tornando indietro magari... Boh! Raga qualcosa proprio non mi torna! Non so come scappare! Si arriva qua! Si sale su questa super lampada! Si sale di qua! E vediamo che ci sono tre porte! Tre porte che portano tutte allo stesso posto! Quella è la porta da cui sono arrivato! Non vi sono altre porte o altri buchi nel soffitto! A parte l'ama non posso in nessun modo arrivarci! E mi ritrovo bloccato da queste scatole! No no! C'è qualcosa che non quadra davvero! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ma che è? Oh mio Dio! Troppe cose sono successe! Troppe cose sono successe! Devo scappare di qui! Oh mio Dio! Ecco le creature che mi hanno rapito! Ci deve essere qualche buco da qualche parte! Oh mio Dio! Oh mio Dio! What? What? Signori ho capito cosa devo fare! Dai! Sì! Sì! No! No! Non sei capace di sparare sti razzi! Maledetto! Sì! Addio! Cosa sono questi raggi futuristici? Gli alieni devono avermi drogato in qualche modo! Non sono capace di fare nessun tipo di parkour! Non sono assolutamente capace di fare nessun tipo di parkour! Sì! 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 Il checkpoint! Sì! È il razzo questo! Raga! È il razzo alieno! Sono i propulsori del razzo alieno! C'è una porta qua! Vediamo dove porta questa porta! Questa porta non porta da nessuna parte! Va bene! Oh mio Dio! Siamo arrivati nella stanza! Oh mio Dio! Se partisse il razzo sarebbe un gran problema! Devo in qualche modo interagire! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ho paura che il razzo... Ho paura che il razzo possa partire tra poco! Oh mio Dio! Devo trovare assolutamente una via di fuga! In che modo? C'è qualche modo di arrivare lì? Magari tramite queste? Magari così? Poi così? No! Quella porta... Mi puzza! No! Non porta da nessuna parte! Le cose si fanno più complesse del previsto! Come posso arrivare lì sopra? Da un lato mi è chiaro! Dall'altro... Assolutamente no! Forse ho capito come posso uscire da questa stanza! Io devo assolutamente distruggere quella... Cella di energia! Altrimenti qua il razzo potrebbe incenerirmi vivo! Ma per farlo dovrò saltare! Prima... Da qua! Poi da qua! Poi da qua! Visto che lì non c'è nessun'altra roba! E anche da lì! Il problema è come arrivo esattamente lì sopra! Assolutamente non è semplice per niente! Non so se questa tv in qualche modo possa... Possa essere davvero d'aiuto oppure no! Raga! Non c'è da nessuna parte nessun indizio su come proseguire qui! È molto difficile! È molto complicato! Raga! Ho trovato la via di fuga! Signori! La mia missione è stata completata! Signori! Userò questo pupazzo di neve! Che è sacrificabile non come me! Per distruggere il centro operativo! E salvare la terra! Sì! Ce l'ho fatta! Missione compiuta soldati! Missione compiuta! Ora avete voi una missione! Cliccare su uno dei due video che vedete alla mia destra! Ciao!